Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento delle previsioni agrometeorologiche per il fine settimana che vede una situazione ancora di generale stabilità anche se abbiamo un progressivo indebolimento dell'alta pressione per infiltrazione di aria più fresca e quindi un progressivo abbassamento delle temperature, queste infatti tenderanno ad allinearsi ai valori stagionali. Quindi con le temperature massime che potranno raggiungere anche nella giornata di domenica di 25-27 gradi nelle aree bradaniche e metapontina, mentre le temperature minime avranno una maggiore stabilità, comunque compreso un intervallo tra i 10 e i 15 gradi. Questa variabilità è legata al passaggio di alcuni corpi nuvolosi che quindi determinerà una maggiore nuvolosità o meno e comunque una leggera probabilità di pioggia o meno, una probabilità di pioggia con quantità prevista intorno ai 10-15 mm nella parte meridionale, quindi aree interne e aria terrenica della regione. Quindi cosa dire da un punto di vista per il contesto agricolo? Rimane ancora molto favorevole poiché i valori termici consentono l'esecuzione agevole di tutte le persone culturali, è favorevole anche per i trapianti delle colture e anche per la maturazione degli agrumi e quindi siamo in fase anche di invaiatura o comunque cominceranno a breve i primi raccolti di quelli più precoci. Attenzione all'umidità poiché questa è in fase di aumento quindi può determinare delle insorgenze di malattie fungine o di insetti. Con questo ho concluso, arrivederci al prossimo appuntamento.